La fuori c'è un mare di persone che stanno nel porto. Quando ti trovi in un mare di fenomeni e devi emergere... ...e devi portare qualcosa che gli altri non hanno. Mi sento tipo prima di un incontro di Mike Tyson. Perdere non è l'opzione. Ero gay, fanno vroom vroom, senti tutto nella zona, ah. Capito perché tocca a sbortà, non lanciamo gli assi soldi. Riescono a mentirsi, riescono a pentirsi con questi castelli. Niente, incredibile. Se stavi zitto a facevi più bella figura, bro, perché sei vestito meglio di come i rappi. Ok. Verso una bottiglia per terra per ogni fratello che sta nella planta. Posso dire una cosa, ok? È già reppato, mi sei sembrato molto bello. Parlamati, ma se me la maniera venga e se te la capa sotto in terra, il pato non è. Non devi mettere la camera nezza, è stancantissima. Non devi mettere il testo. E non ride on good, ride on me. Come sai il mood quando prendo il beat. Quando prendo il beat. Un, 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 come ha se la giura, baby canna, yo. Far a led di guardia, redogurro nel mio pare testagna. Faccio il tour a questo, scarsi, mille pezzi. E dopo mi riguardo la puntata sopra Netflix. Lelitfo! Oh!